Prendi tre gol per tre errori. Sul terzo la metto un po' sulla stanchezza, nel senso che uno da solo, pur che sia fresco, non può entrare in aria così facendo uno slalom e tutto. Quindi la metto sulla stanchezza, però sicuramente dobbiamo riguardarci e andare a capire dove abbiamo sbagliato, perché oltretutto secondo me se è 5-10 minuti dalla fine chiediamo a loro il pari, nel senso che quanto mettete per pareggiare loro scommettono tutto, perché loro il pareggio andava benissimo a 10 minuti dal termine, quindi addirittura fare tre punti per loro è stato... Voi vi fate 500 chilometri di rabbia adesso? Sì, ma è giusto che sia così, il calcio è questo, commetti gli errori, li paghi, quindi è giusto che noi ci riguardiamo con autocritica, anche onestamente con un po' di forza, nel senso che in campo le sensazioni erano positive, per quanto ci sia girato tutto contro, le sensazioni erano positive.